A San Giovanni Gemini intrapreso un piano di recupero dei campi da tennis, l'impegno della locale associazione sportiva Tennis Club, l'intervista alla coordinatore Alfonso Micichè. A San Giovanni Gemini l'associazione Tennis Club di San Giovanni Gemini è impegnata in una raccolta fondi finalizzata ad un'opera già intrapresa di recupero dei campi di tennis di San Giovanni Gemini, il coordinatore della stessa associazione Tennis Club, Alfonso Micichè. L'associazione sportiva ha preso in carica i campi di tennis che da oltre vent'anni erano stati abbandonati per un progetto di riqualificazione che investa tutti i soggetti attivi della comunità. Abbiamo avviato dei percorsi prima legati alla raccolta fondi attraverso lotterie, ora abbiamo fatto una campagna di abbonamenti e ci apprestiamo a fare un crowdfunding che permetta di realizzare l'intero progetto che oltre la riqualificazione contempli pure la copertura dell'impianto di uno dei due campi sportivi. Ecco più che altro nel grafico è spiegato nel dettaglio come si procederà. Sì, noi abbiamo già completato la prima fase che è quella della bonifica dei campi e domenica ci sarà la posa della prima petra perché abbiamo raggiunto il budget che ci permette di realizzare le opere. Abbiamo già interpreso la seconda fase che è quella che prevederà l'illuminamento e la sistemazione dell'intera aria e contiamo entro l'estate di completare queste due fasi. Ad appoggio di questa poi stiamo lanciando attraverso il web una campagna di crowdfunding che preveda la realizzazione, e questa è la prima volta che succeda nelle nostre zone, della copertura dell'impianto sportivo. Per potervi contattare avete già attivato una pagina Facebook? C'è una pagina Facebook, c'è l'indicazione di un IBAN dove già attivo e attraverso il quale già stiamo raccogliendo i fonti. Basta collegarsi al nostro indirizzo Facebook dell'associazione Tennis Club San Giovanni Gemini e ricevere il contributo che in questo momento sarà utile per poter completare la seconda fase. Come è sorta tale iniziativa? Quanti campi da tennis vi sono a San Giovanni Gemini? E poi rispetto alla vostra iniziativa di riqualificarli, vi è una domanda di utilizzo tanti aspiranti tennisti? Sì, allora San Giovanni Gemini ha una lunga storia diciamo tennistica. I campi sono due e negli anni 70-80 c'era un circolo tennis che faceva parecchie attività sportive. Nell'ultimo ventennio c'è stato l'abbandono completo dei campi e si è ripreso in quest'ultimo anno attraverso l'appoggio di un campo privato. L'associazione in questo momento ha oltre 100 iscritti, di cui 60 bambini e uno dei propositi dell'associazione è dare proprio la possibilità di scegliere ai ragazzi di intraprendere una disciplina sportiva che è diversa del calcio o del basket. Grazie. Grazie. Grazie.